E di ieri la notizia che hanno individuato due probabili responsabili dell'aggressione a sua figlia? Sì, ma sono molto di più. Mia figlia era cerchiata da un branco. Poi ovviamente chi ha picchiato forte non saranno tutte perché altrimenti oggi lei non sarebbe più qui. Come sta adesso sua figlia? Ma lei caratterialmente gioca ad essere allegra, a farsi vedere forte perché lei tra virgolette non vuole darla vinta. Poi la sera mi dice mamma voglio dormire con te perché ho paura. Allora noi siamo qua anche per denunciare questo gravissimo fatto ma anche per fare in modo che non avvengano più questi fatti. Che ci sia una maggiore responsabilità da parte della società, della scuola, delle famiglie per educare, per ricondurre nuovamente questi giovani a una via della ragione. Io non lascio mai mia figlia da sola, però è assurdo come alle 16, 16 e 30 io non possa far passeggiare tranquillamente la mia bambina in pieno centro per la paura che qualcuno me la pesti così senza motivo perché nel suo caso è troppo alta. Oggi è successo a lei, domani potrebbe capitare a qualcun altro. Queste cose devono essere fermate e certi genitori secondo me, se posso permettermi, non sono in grado di prendersi cura di se stessi. Quindi figuriamoci di un bambino, andrebbero veramente, più che anche per carità, se veramente puniti i figli ma anche i genitori che non sono in grado di fare il ruolo del genitore come si deve. Ci sono state delle indagini a tutto campo immediate che hanno permesso di individuare queste ragazze. Sì, io sono fortunata, sono un'alessandrina fortunata, aiutata da Giovanni Barrosini che ci conosciamo da sempre, che lui è molto sensibile in queste cose e dal commissario Ceravolo che veramente non ha perso tempo e siamo arrivati subito alla conclusione perché il mio scopo è veramente che la mia bambina possa riottenere la libertà di uscire tranquillamente. Da genitore di una ragazza giovane che vive comunque l'atmosfera di questa generazione Z, che cosa pensa di quello che è accaduto? Penso che a volte uno possa dire ma se l'è cercato, non c'è giustificazione quando viene assalita una persona così in branco e così in maniera malvagia. Come ogni mamma è normale che io dica che la propria figlia è buona, ma la mia lo è davvero e me lo scrivono anche i suoi insegnanti e quindi io per chi la conosce sa che non meritava una cosa del genere, che può essere traumatico per tutta la vita, ma che nessun ragazzino, anziano, disabile, persona più debole possa mai più subire una cosa del genere.